Con noi c'è Roberto Rioldi, un campione che non ha bisogno di presentazione come peraltro gli altri due già sentiti. Vince questa categoria a tempo, si qualifica per il Gran Premio ma ne ha già vinta un'altra precedentemente. Il primo giorno due vittorie su quattro, come dire, ma la passione è sempre così forte per te. Sì, mi diverto, ho dei cavalli che mi aiutano, ho un po' di esperienza alle spalle, dunque quando si può ci proviamo. Soprattutto nelle gare a tempo, ma tu hai sempre premura nella vita, corri sempre così anche quando sei giù dal cavallo oppure solo sul cavallo? Il tempo per me è molto importante, anche nella vita, dunque buttare via del tempo inutile anche nella vita non mi piace, ti dico la verità. Curiamoci in gara. In gara appena si può e tante volte non basta perché sono più quelle che si perdono che quelle che si vincono, però ci si prova. Senti, questo cavallo ci puoi parlare un attimo di lui? È l'Europiana Lorena, è una cavalla che ho preso l'anno scorso all'inizio dell'anno, un cavallo un po' particolare. Nella sua carriera fino a sette anni aveva fatto pochissimo, l'anno scorso ha già fatto dei buoni risultati. Quest'anno alterna dai buoni percorsi e dei percorsi ancora a un certo livello, non sempre alle aspettative che ho. Dunque ad agio d'agio cerchiamo di risalire anche sulle gare più importanti con una certa precisione. Tu sei sempre stato uno che costruisce dei cavalli, ti piace prendere i cavalli giovani, tirarli su, crescerli tecnicamente fino ai massimi risultati. Non stiamo qui a elencare tutte le tue vittorie, i tuoi campionati italiani vinti. Ecco, non tutti i cavalieri hanno questa voglia, questa passione. Ma sai, riuscire a costruirti un cavallo è un fini che poi ti rimane per sempre. Anche perché andare in giro e cercare di pigliare dei primi cavalli non ho queste possibilità. E dunque devo cercare di pigliare dei cavalli giovani e costruirli e portarli avanti. Sempre modesto a Rioldi, infatti con la modestia lui continua a vincere. Gli auguriamo ogni bene e in bocca al lupo per i prossimi giorni del concorso di Bagnaia. Grazie Carpi Lupo.